Il cittadino di Ogliastro Cilento è risultato negativo al secondo tampone di verifica. Buone notizie dunque per il 53enne ogliastrese che nella scorsa settimana risultò positivo al covid-19. L'uomo si era recato per problemi personali di salute al pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli dove fu sottoposto come da prassi a tampone che diede esito positivo. Da lì il ricovero presso la struttura ospedaliera di Scafati. Il 53enne asintomatico è stato sottoposto a tre tamponi. Il primo è risultato positivo mentre gli altri due negativi. Si è trattato molto probabilmente di un falso positivo. Il risultato del terzo tampone con esito negativo è arrivato questa mattina. Tira un sospiro di sollievo l'intera comunità ogliastrese che in questi ultimi giorni era stata in apprezzione visti i tanti tamponi disposti dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Salerno su numerosi cittadini che però hanno dato esito negativo. L'uomo nella giornata di oggi sarà dimesso dalla struttura ospedaliera di Scafati dove era stato trasferito in seguito alla positività del virus riscontrata presso la struttura agropolese.